Vi mostro qualche immagine che sarà sicuramente, speriamo, di consolazione per gli operatori del turismo montano perché questa mattina qualche nevicata si registrata, si vede, qui siamo proprio a Passo Lanciano con la webcam in diretta all'Hotel Panorama e insomma un po' di neve è caduta, si spera che possa servire naturalmente poi con l'opportuno consolidamento anche a riattivare gli impianti scistici e riportare un po' di persone rimaste deluse in questo inverno dall'assenza di neve in Abruzzo questo accadeva e accade a Passo Lanciano al momento, naturalmente vedremo poi nelle successive ore se sta nevicando in altri luoghi d'Abruzzo questo è un inizio, certamente non basta, bisognerà vedere anche se non ci sarà un improvviso rialzo repentino delle temperature che vanifichi, poi che possa vanificare tutto quello che vedete ma insomma un po' di neve in montagna, finalmente la si vede ma insomma un po' di neve in montagna, finalmente la si vede